Cari amici oggi vi spiego perché la mia squadra, l'FC internazionale, l'anno prossimo giocherà la Champions League. Sono calvanizzato, sono così certo che ci andremo, che addirittura ho fatto anche una scommessa con quel figlio di Roma del mio amico Lorenzo. La scommessa non ve la accendo, se volete andate a vedere il video che lo trovate qui, non vi parlo proprio perché rischio l'osso del collo. Prima di darvi le mie motivazioni al riguardo all'approdo in Champions dell'anno prossimo, vi invito come al solito a scaricare l'app gratuita OneFootball che vi permette di rimanere aggiornati sulle news del calcio, trovate in descrizione il link. Allora ragazzi, l'Inter, sappiamo bene, dovrà giocarsi tutte le carte contro la Lazio. Una Lazio decimata dagli infortuni. È arrivata anche la conferma che Luis Alberto non ci sarà perché i dati strumentali non sono stati favorevoli. Andiamo a leggere l'articolo e poi esaminiamo il tutto. Stagione finita per Luis Alberto, salta Crotone Lazio e Lazio Inter. Due settimane di stop per Luis Alberto che vorrebbe comunque giocare contro l'Inter, ma al momento i dati strumentali non sono favorevoli. Lesione di primo grado alla coscia sinistra, prognosi di 15-20 giorni. Cosa dice il medico? Abbiamo messo in atto trattamenti specifici, ma bisogna aspettare i tempi clinici. Lui vuole provare a giocare con l'Inter, ma i dati strumentali non sono favorevoli. Ecco, non ci sarà neanche Ciri Mobile. Tornerà a disposizione Stefan Rado. Forse, forse Marco Parola, ma di Parola onestamente non è che mi interessi poi tanto. E andiamo a quest'altro trafiletto finale. Contro il Crotone, la Lazio schiererà dunque Caicedo come prima punta e Felipe Anderson come trequartista. Il posto dell'interno di centrocampo verrà preso invece da Murgia. Nonostante il desiderio di tornare in campo contro l'Inter, Luis Alberto dovrà rimanere high box. Sarà nuovamente in campo nella prossima stagione. Quindi non è sicuro al 100% che Luis Alberto non ci sarà, ma qualora ci fosse comunque non sarà sicuramente al meglio. E perché tutta sta ramanzina, tutta sta storia su Luis Alberto? Ragazzi, Luis Alberto è un giocatore che ha nei numeri 11 gol e 15 assist. Sono numeri strepitosi. Basta pensare che nell'Inter i nostri trequartisti, Brozovic, Rafinha, Borja Valero, trequartisti nel senso quando hanno giocato da trequartisti, insieme forse hanno 5 gol totali, 5-6 gol totali. Sì, perché 3 ne ha Brozovic, Borja Valero ne ha 1-2, 1 forse, 1-2. Rafinha 1, quello ne ha 11. Tanto per fare un'idea. Poi, forse, ad ogni modo, mancherà, anzi, quasi certamente, Ciro Immobile, che dal canto suo ha 29 gol e 9 assist. Ragazzi, mancheranno i numeri, mancheranno i numeri alla Lazio, mancheranno i numeri. Inoltre, si aggiunge che De Vrij, proprio in questo momento, proprio in questi giorni, ha stilato proprio l'accordo, già c'era l'accordo, ma adesso è davvero ufficiale, per cui, vuoi o non vuoi, non riuscirà a dare il 100%, ragazzi miei. Si sa, e De Vrij è il miglior difensore della Lazio. Quindi sono tutte notizie che vanno a favore dei nerazzurri. Noi già parliamo di Lazio-Inter, ma aspettiamo un attimo. Focalizziamoci anche sulla partita col Crotone, che dovrà affrontare la Lazio, perché non sarà affatto semplice andare a Crotone, con queste assenze certe contro il Crotone di Immobile, di Luisa Alberto, assenze lì certe, contro una squadra che dovrà fare punti, assolutamente, contro una squadra che ha dimostrato comunque di mettere in difficoltà chiunque, anche noi, il Crotone, non sarà semplice. Poi con la Talampa, specialmente nel secondo tempo, ho visto una Lazio un pochettino sulle gambe, non sarà semplice per la Lazio. Oh, ovviamente l'Inter deve vincere, l'Inter deve vincere. Io adesso faccio il professorone, così, colà, cerco di analizzare, ma l'Inter deve vincere, deve vincere, non è poi così scontato, ovviamente, se non vinci col Sassuolo, è giusto che non vai in Champions, non esiste, non ci devi andare in Champions, siamo tutti d'accordo su questo. Lì, noi col Sassuolo bisogna vincere. Però, dico sulla carta, la Lazio dovrà stare attenta, dovrà stare attenta anche e soprattutto col Crotone. E poi ci sarà questo big match finale che decreterà, secondo me, veramente la possibilità ad una delle due squadre di andare in Champions. Io, ripeto, sono così convinto che quest'anno ritorneremo in Coppa. è arrivato il momento che l'FC internazionale deve andare lì in Champions perché è il posto che le compete. C'è poco da fare. L'Inter ha bisogno della Champions League e noi tifosi inerazzurri, lo abbiamo dimostrato quest'anno, abbiamo il tifo più acceso, cioè lo stadio è sempre quasi pieno, una media tifosi superiore a chiunque in Italia, per cui, ragazzi, ce lo mettiamo. Noi tifosi inerazzurri ce lo meritiamo e noi tifosi inerazzurri dobbiamo andare in Champions. Ragazzi, questo video è tutto. Un abbraccio da Neschio, forza, Indra, amala, sempre e comunque. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram. Grazie a tutti.